Su fratelli, su compagnie, su venite in fitta spiera, su una libera bandiera, splende il sol dell'avenì, nelle pene e nell'insulto, ci svingemmo il muto patto, la gran casa... C'è ancora da chiedersi come non accadde la strage. Un miracolo, si disse poi, la fortuna, il caso, la mano del padre eterno, disse Santino. Lippi e Friani si erano mossi per primi, diretti su olindo e su tedesco. Gli agenti e il comandante dei soldati avevano cavato le pistole. Nardini disarmò Crispi di sorpresa, scattando nell'istante medesimo in cui l'ingegnere urlava «Fermalo, quel dannato!» Intanto Metello cercava di arginare la più parte dei compagni lanciatisi contro i crumiri. Riuscì a trattenere Duili e Parigi, piegandogli le braccia. Così si accese la mischia. Friani e il tedesco, sgambettatisi a vicenda, lottavano per terra. Ora il tedesco, inchiodato l'avversario col ginocchio sul petto, lo schiaffeggiava. Santino aveva immobilizzato Lippi, abbracciandola alla vita. Olindo, liberatosi dall'assalto del Deccano, tentò di fuggire, ma gli furono addosso in due, in tre, in cinque. Lo sommersero sotto i pugni, gli insulti e gli sputi. Come la sera avanti, in piazza Cavalleggeri, si disse. Ma questa volta i militari erano armati. Una scarica di fucileria mise in fuga le rondini e agghiacciò coloro che si colluttavano sullo sterrato. Si era sparato in aria, ora sente le teste. L'aggotesto momento, tre furono in seguito le versioni, quella dei muratori, quella dei questurini e quella dei soldati. L'ingegnere, lui, avrebbe sempre ripetuto che tutto era successo in un modo così rapido e confuso da non poterci si raccapezzare. Certo è che dopo la scarica di fucileria la rissa era sedata. I muratori avevano abbassato le mani e si erano rialzati, spolverandosi i vestiti, borbottando delle maledizioni. Quindi, fosse l'istinto di conservazione, la paura o una solidarietà spontaneamente ritrovata, strettisi l'uno all'altro, gli scioperanti e i cromiri formavano un gruppo solo. In mezzo a loro il decano era l'unico a restar seduto per terra, le gambe distese e la testa fra le mani. Morborava. Si perde il lume degli occhi, qualunque sia l'età, e non si dovrebbe. Il giovane Parigi si piegò sui calcani per essergli vicino. Ora i militari, su due file di cinque, come per una vera e propria fucilazione, si disse, tenevano i moschetti puntati. «Ma siete pazzi a sparare!» aveva gridato il tedesco. Era avanzato di un passo e dietro di lui sembrò che un po' tutti muovessero incontro ai militari, agli agenti, all'ingegnere, ai due caporali. Accosto anche essi, quasi sulla stessa linea. Metello stava vicino al tedesco e disse, «Non siamo dei banditi, ci è salito il sangue alla testa, ora è tutto finito, voi non c'entrate». Friani gridò, «Avete i calli alle mani come noi, militari, siete degli uomini liberi, non vi fate con... non fatevi comandare!» Grida, pugni chiusi e protesi, sostennero le sue parole. «Vi do tempo fino a tre per tornare indietro», gli intimò il delegato. Come lui, gli agenti e il sotto ufficiale avevano tolto la sicura e la pistola. Aggiunse, «Vi trovate subito d'accordo quando c'è da ribellarsi alla forza pubblica, farabutti!» Qui intervenne l'ingegnere. Si asciugava il sudore sulla fronte e sul collo. «È la prima volta che succedono di queste cose nel mio cantiere!» Si mosse Nardini, fece per raggiungere il gruppo dei lavoratori. «Smettiamola, ragazzi! Non è stato nulla via!» Ma il delegato lo fermò, impedendogli il passo col braccio e con la stessa mano in cui teneva la pistola. «Lei resti qui!» Metello disse, «Lo sappiamo, Nardini, che tu sei una brava persona. La figura del caporale non ti si addice!» «Per il bene comune!» Gli rispose Nardini. Il tedesco disse, «Ma naturale!» E portato dalle proprie parole, passò un braccio attorno alle spalle di Metello. Lo sospinse accanto a sé e verso coloro che li fronteggiavano. «Incidente chiuso!» Disse, «E chissà che queste buone lane non abbiano cambiato opinione!» Il gruppo dei muratori gli venne dietro, il decano si era alzato appoggiandosi alla mano di Parigi. «Non vi muovete!» Ridò il delegato. «Fermatevi!» «Maresciallo!» Ridò. «Attento!» Una frazione di secondo, come se accende un lampo nelle notti d'estate, come ad un tratto il sole precipita dietro le case, partì il colpo di pistola che sfiorò Metello e colse in pieno petto il tedesco, lo rovesciò a bocconi. Nel silenzio che seguì, un attimo ancora, l'abbaiare del cane alla catena, parve un latrato. Subito, invece di disperdersi o di assistere il tedesco, il gruppo dei muratori si slanciò in avanti, urlando. Ci fu una sassaiola, colpì due soldati e crepitò la fucileria. Una scarica, due, mentre sempre sparando i soldati e i tre agenti che impugnavano le pistole arretravano, come per attestarsi al riparo della direzione e del dormitorio. Un miracolo, la volontà divina, la fortuna al caso, o il bersaglio umano era troppo ravvicinato, o quelle mani callose tremarono e istintivamente rialzarono la mira. I muratori erano un gruppo compatto. Come sparare su uno stormo, su una mandria, su più sagome ammocchiate a dieci passi di distanza, non di meno. Anche le revolverate dei questurini sembrarono andare a vuoto. Sull'istante, Duili quasi non si accorse di avere un polpaccio forato, né il pomero sentì un bruciore particolare alla spalla, né Santino, infine, si rese conto che quel rapido sfruscio avvertito davanti agli occhi gli aveva rigato la fronte come il grafio di un'innamorata. La terza scarica gli aveva ridotti alla ragione. Mettello, Friani e Santino si chinarono sul tedesco. Gente era corsa dalle parti della ferrovia, giù per la massicciata, quei contadini da dietro la rete, e l'ingegnere Nardini, malgrado le imposizioni del maresciallo e del delegato. Il tedesco si era voltato su Pino, poi da solo si mise seduto, fece per alzarsi, barcollò e lo dovettero sorreggere. No, no, ripeteva, non è nulla, non mi duele. Ecco come vanno a finire le cose. Avviste, ingegnere. Di lì a poco, un braccio attorno alle spalle di Mettello, l'altro attorno alle spalle di Santino, potè camminare e raggiungere la direzione. Non mi duele, no, non mi duele, e bestemmiava. Badolati si asciugava la fronte, i labbi, il viso. Meno male, diceva, meno male, meno male. Gli apparse, gli aperse la porticina della direzione. Entrarono, il ferito e i due che lo sorreggivano, e Friani e Nardini, con la cassetta del pronto soccorso. Il tedesco, sedè sulla sedia del padrone, gli dettero dell'acqua e la rifiutò. Fosse vino, ma non è ora. E poi, sul primo momento, non si dà mai da bere un ferito. Me l'hanno insegnato in Germania. Ma non mi sembra di essere grave, non mi duele. Mi sento soltanto indorenzito. Ho perso il fuscello di bocca. Che sfortuna. Il suo viso tornava a colorirsi, i suoi occhi erano inspiegabilmente tutti dolcezza. Era un gran corpo. Rilassato sulla sedia, con quella luce incredibile negli occhi, si rivolse a Friani. Però, te le ho date, eh? E ora ci tornerai al lavoro. Ametello disse. Anche tu, persuadili. Ormai quel che si è fatto, si è fatto. Di più non è possibile. Loro, lo vedi, sparano. Mica lo sanno. Santino. Dio, che tanto di qua, che di là, ci sono dei padri di famiglia. E che la disperazione che ci mette gli uni contro gli altri. Vaglielo a dire. Vaglielo a dire. Vaglielo a far capire. Non bestemmiare. Bestemmiando cosa rimedi? Gli disse Santino. Oh, Albertario mio, quando ci vuole. Gli vide il graffio sulla fronte e sorrise. Ti hanno cresimato, eh? E sospirò. Ora mi dovranno cavare la pallottola. Certo, è rimasta là dentro. Da parte a parte non mi ha passato. Si sarà fermata su un osso. Prenderò altri due o tre giorni. Vuoi vedere? Con la situazione che ho a casa. Non ti agitare, gli disse Metello. Ma se io sto meglio di te, coglione. La camicia, sul petto, un palmo sopra il cuore, si era arrossata appena. Un cerchietto largo quanto doveva essere largo il foro, quasi. Del diametro di un diecione, si disse poi. Così sembrò, dopo che gli ebbero denudato il torace, a stagnare il sangue. Erano bastati i peli. Nardini gli mise sopra un battufolo intriso di tintura di iodio. Ti brucia. Sulla porta, badolati, parlava coi poliziotti. Il brigadiere sploverava il tubino, passandoci la manica della giacca. «Meno male», ripeteva l'ingegnere. «Sembra una ferita leggera. Meno male. Mi pizzica. Non mi brucia». Al di là, si intravedeva lo sterrato dove i soldati, respinti, curiosi al margine della ferrovia e della massicciata, riuniti così sulle due file, stavano in posizione di riposo, ma ancora coi fucili sali nelle mani e il colpo dentro la canna, dinanzi a quegli uomini, gli scioperanti e i crumiri. Ora più che mai, l'uno e l'altro vicini sotto il sole. Se qualcuno si era allontanato, non ci se ne accorgeva. «Sono degli stupidi», disse il tedesco. «Perché non si mettono all'ombra, dietro le impalcate? Lascia perdere, non ti eccitare. Ora viene la pubblica assistenza e domani stai meglio di ieri». Mettello disse. «Era andato a Parigi a chiamarla. Ci vorrà un quarto d'ora». «Eh sì, la lettiga mi ha bisogna. A piedi non ce la farei fino all'ospedale». «Se in corsia ti mettono d'accanto ad Aminta, non ricominciate. A patto che non ricominci lui, Dio, Albertario caro, ti sembra questo il momento in cui dovrei dire le orazioni?» Santino gli mise sulle spalle la camicia e Mettello gli riavviò i capelli con la mano. Ora, lungo il fossato che sbucava sul munione, la cornetta Parigi correva a chiamare la croce verde delle cure. Risalito l'argine, avrebbe accorciato il cammino. «Se strada facendo trovi un legno, piglialo e torna al galoppo». «Vai a galoppo, su!» gli aveva detto l'ingegnere. Doveva percorrere 500 metri e non incontrò nessuna carrozza, tuttavia si fermò tre volte. Subito, imboccato il passaggio che congiungeva il fosso al torrente, nella galleria aperta sotto il piano stradale per adattarvi le tubature, un groviglio di corpi bloccava l'uscita. Costì, all'oscuro, era tutto un agitarsi di braccia, gridi soffocati, insulti, bestemmie, qualcuno pieteva pietà e si lamentava. Non era più una rissa, era un linciaggio. Olindo, ragomitolato faccia a terra, il capo tra le mani, ingoiava polvere e sangue, su di lui ginocchioni, duili, il pomero, il decano, un quarto che Parigi non riusciva a vedere. Lo colpivano, a turno si sarebbe detto, sulla testa, ai fianchi. Si alzavano e gli davano dei calci, lo sollevavano di peso e lo lasciavano ricadere. Ma l'ammazzate! esclamò Parigi. Non muore, no! È il miglior castigo che gli si potesse dare. Nel trambusto, succeduto agli spari, dopo che il tedesco era caduto, Olindo, preso dal panico, era scappato. Costoro lo avevano visto in seguito. Come sta il tedesco? chiese Guili. Non sembra grave, vado a chiamare la Croce Verde. E allora vai, cosa ti sei fermato a fare? Parigi raggiunse l'uscita, risalì l'argine e udiva ancora i lamenti di Olindo, sotto i colpi dei suoi torturatori. Oh, basta! Ho quattro figlioli! Te ne ricordi ora, carogna! Sudicio! E non li posso lasciar morire di fame! E i nostri? E noi? Fuori la galleria c'era un gran sole. Era alto mattino. Il munione era in secca. Le cicale cantavano e ricropivano quelle voci. Parigi imboccò il ponte, correndo e a metà incrociò il calessino dell'ingegnere giovane. Il nipote di Badolati teneva le redini e accanto a lui, dove un'ora prima sedeva il figlio di Madì, c'era del buono. Parigi lo riconobbe quando il calesse era di già passato. Bastiano! Si fermò a capo il ponte. Ora il calesse costeggiava la massicciata. Il suo cappello di paglia, la sua giacca nera dal collo, sbucava il solino di tante dita. Era del buono. Ora che lo vedeva di spalle, ne fu anche più sicuro. O te, Parigi! Lo chiamò il suo amico Renzoni. Veniva correndo dalla parte della barriera, col fiato grosso e il sudore che gli scorreva rivoli sul viso. Che corsa! Di quanto mi hai distaccato? Hai visto che Metella aveva ragione? E mio nonno? E lippi, e corsiero, e duili? Bisogna rimettergli l'onore a questi vecchi. Ne sanno più di noi. Andiamo! Vieni tu con me. Il tedesco è ferito. Correndo insieme, affannati, si partecipavano le notizie e gli ultimi avvenimenti di cui erano stati spettatori. Cosa e fatti gli sembrava che la vita non gli avrebbe più riservato uguali. Negli altri cantieri è andata su per giù come da noi. Tu eri in giro. Non sai che da noi hanno sparato. Mi ci sono ritrovato a cantiere Madì. Lì a sparare sono stati soldati. Ma anche da noi. Ma in aria. A noi ci hanno sparato addosso. Siamo vivi per miracolo. E intanto, senza che sui cantieri si sapesse, a Firenze c'era lo sciopero generale. Per via della chiusura della camera del lavoro. Siamo stati noi a dar fuoco. E mentre divampava, si era all'oscuro. Il tedesco è ferito. E Altinai, qualcuno, gli ha gonfiato il viso. In notate è arrivato Pescetti da Roma. Lui è una rappresentanza di quelli del Pignone. Sono stati in Palazzo Ricciardi di primo mattino. Roma ha chiamato al telefono il prefetto. Sembra ci fosse Giolitti all'altro capo del filo. Fatto sta che del buono l'hanno scarcerato su due piedi. Ora va in giro da un cantiere all'altro per fare accettare le proposte dei padroni. Vogliono venire agli accordi entro stamani. Parigi si fermò. Erano a pochi passi dalla meta. Dovette chinarsi ad allacciare una scarpa che altrimenti gli usciva dal piede. Che accordi? Non so di preciso. Certo, non ci daranno quanto si è chiesto da principio, ma quasi o almeno qualcosa. E di lì a poco, ora correndo dietro la lettiga e restando distaccati dai quattro umiliti che la spingevano più freschi e infiato di loro, il tedesco dove l'hanno colpito? Al petto. Come un fratello bandiera. Ti sembra di poterci scherzare? Ma se è leggero. Non lo sai. Non te l'ho detto. E' arrivato anche quello di Torino, con i soldi della sottoscrizione. Ora sono tutti alla camera del lavoro. Ha portato sulle 3.000 lire. Allora stasera è come se si riscuotesse. Si mangia. Si fuma. Ci entrasse da poter andare in via dell'Amorino, disse Renzoni piccolo. La tua bambinaia? Che l'hai a fare? Quella è una cosa seria. Anzi, mi aspetta a mezzogiorno sotto la torre della Zecca. Saranno di già le undici passate. Non ci potrai andare. Non ne posso fare a meno. Oltretutto mi porta da mangiare. Vieni di qua. Scendiamo per l'argine. Si fa più presto. Così si arriva quanto la lettiga. Dentro la galleria trovarono Rindo solo, che piangeva. Lui, uomo di 30 anni, come un bambino. Il sangue gli colava dai labbi spaccati e da uno zigomo. Cotesto sangue e le lacrime, la barba lunga, la polvere che gli impiastricciava il viso, il suo atteggiamento e il modo di lamentarsi, gli conferivano un'aria di canfrustato e decceomo, che un po' faceva compassione e un po' muoveva il riso. Motinai, gli disse il piccolo Renzoni. Siete cascato male? Lo aiutarono a mettersi in piedi e lo persuasero a seguirli dal momento che lo sciopero era finito per tutti e bastava non conservare rancore perché il passato fosse morto e seppellito. Via, Rindo! Non vedete là fuori che bel sole? Il tedesco era ferito leggero, sembrava, e a Santino, al Pomero, a Duili, gli bastò farsi medicare al pronto soccorso in farmacia. Santino riapparve con la testa affasciata, lui davvero un innobixio, se non un fratello bandiera. Ed era arrivato a Leopoldo, scarcerato come del buono, e subito portatosi sul lavoro. La truppa e gli agenti di lì a un'ora vennero ritirati. Abbassarono le armi soltanto duecento metri lontano dal cantiere. Il sole batteva a picco e pareva non fosse successo nulla di nulla. Ora che Bastiano stabiliva i nuovi patti, anche con l'ingegnere, come aveva fatto con Taiuti, con Fiaschi, con Marii, con il Massetani. Tornare sui ponti subito, alle una piuttosto che domattina, significava riguadagnare, dopo tanto riposo, qualche ora. Dal forte di Belvedere, il cannone annunciò a mezzogiorno. I lavoratori del cantiere Badolati erano tutti attorno a del buono, che risaliva sul calessino, mentre l'ingegnere gli stringeva la mano. Uno di quegli avvenimenti che entrano nella storia, e non ci si fa caso quando accadono sotto i nostri occhi. È sempre così. L'indomani se ne comprende il significato, leggendo i giornali, o lo si impara decenni dopo sui libri. Sono le date delle vittorie. Passerà mezzo secolo, saremo morti e sepolti. Nel frattempo le cose avranno fatto magari un passo indietro, ma quella data resta. È una longarina che tiene anche se batte il terremoto. Come la cacciata del Granduca. Siamo stati forse meglio una volta entrato Vittorio? Lo stesso, il 27 aprile del 1859, il decano aveva vent'anni, se ne poteva ricordare. Fu un gran giorno. Che giorno, figlioli! Egli si trovava su un ponte, dalle parti del gelsomino. La sera, tornando a casa, seppe che Canapone era fuggito. Come il 20 settembre, quando si prese Roma al Papa. Il medesimo per il quale si era cantato, scese dal cielo un angelo che non opio si norma. I fiorentini, cosa ci avevano guadagnato? Trasferitasi la capitale era succeduto il decennio della carestia. Eppure proprio quel 20 settembre, l'Italia era diventata una. E la notte di San Silvestro del Novecento, tre anni prima, si trovò all'alba, per le strade e nelle osterie. Si buttarono dalle finestre i cenci vecchi e le brocche che, in altra fine d'anno, si sarebbero portate allo stagnino. Dappertutto si ballava. I ragazzi e i ricchi si erano vestiti in maschera, come di carnevale. Ci furono le luminarie, i fuochi d'arcificio e l'indomani seguì un capodanno qualunque. Chi aveva bevuto più del normale si svegliò con la testa pesante e il bruciore allo stomaco. Ci si accorse che faceva un gran feddo e che c'era l'umido alle pareti. Ma era stata ugualmente una notte che, in bene o in male, soltanto i figli dei nipoti avrebbero potuto rivivere. Cent'anni avanti, dissero i giornali. C'era Napoleone. Marx aveva da nascere e la locomotiva era ancora da inventare, come dire che tra un secolo al mondo sarebbe socialista e tutti gli uomini potrebbero volare. Ecco, oggi a Firenze per la prima volta un capo dei sindacati era entrato in un luogo di lavoro col benestare dei padroni. Si era seduto a un tavolo con essi e il più umano e cortese di tutti, il meno boia, gli aveva stretto la mano. Era per questo una grandata? Poi, l'ingegnere e del buono avevano assistito, anche questo era nei patti, alla riconciliazione. Metello aveva abbracciato Olindo e i soldati e gli agenti avevano tolto l'assedio. Crispi faceva il suo fagotto, trasferito come era, in un altro cantiere. E partito del buono, in attesa che venisse il tocco e si riprendesse il lavoro, si erano vuotate le tasche e comprati due fiaschi di vino. All'ombra delle impalcate, ciascuno si fermava lo stomaco con pane frittata, pane uova, pane solo. I manovali già stavano rimestando la calcina. Nardini, Metello e l'ingegnere erano saliti sui ponti a sperimentare se le sei settimane d'abbandono non avessero portato dei guasti. C'erano delle passerelle da cambiare e qualche parapetto su cui ribattere i chiodi. Nulla di serio, come da potersi aggiustare durante il lavoro. È una vittoria, ci possiamo accontentare. Meglio che nulla, si dicevano, seduti sotto le impalcate, passandosi il fiasco del vino. Avevano resistito 46 giorni, contro la fame e contro le tentazioni. Erano ridotti pelle e ossa, carichi di debiti e di sospesi. La storia, essi, la vivevano e quest'episodio non era stato tale da poter cambiare di colpo il loro umore. Lo sciopero del 2, il 30 giugno, i gruppi del 21. Nomi, fatti, date, che avrebbero esaltato figli e nipoti per loro, in definitiva erano parole. Trattandosi di una vittoria, si sarebbero attesi un che di eccezionale allegria, battimani, come lo scoppio del carro. Un primo di maggio, la festa dell'ascensione. Al contrario, tutto si era risolto rapidamente, in modo tanto semplice da parere oscuro. E la vittoria di Pirro si era portati a dire, sono nozze coi fichi secchi, è un trionfo di cartone. Sei soldi all'ora, come si richiedeva, avrebbero significato due lire e cinquanta di più al giorno, una lira e sessanta per i manovali. Qualcosa di ragionevole. L'avvenire, anche se non tinto di rosa, gli sarebbe apparso meno oscuro. Per questo avevano alzato il braccio, sei settimane prima, al raduno di Monte Rivecchi. Ora, coi debiti che si ritrovavano, l'aumento ottenuto rappresentava sì un miglioramento, e aver vinto una battaglia data ormai per perduta, ma non migliorava in nulla la situazione. Sarebbero dovuti passare degli mesi, perché ne potessero risentire un beneficio. E durante lo sciopero era trascorsa metà della stagione buona. Tra un mese e poco più, secondo il sesto caio Baccelli e secondo l'esperienza, si sarebbero rotti i tempi. Da qui a scivolare l'autunno e a novembre e dicembre era questione di un sospiro. Ma avevano vinto. Badolati aveva stretto la mano a Del Buono. Non si era mai visto nulla di uguale sui cantieri. I licenziamenti erano stati annullati, ed era stata riaperta, dopo nemmeno un giorno, la Camera del Lavoro. A sera, riuniti in corso dei tintori con l'animo diverso da ventiquattro ore prima, ciascuno avrebbe riscosso la parte che gli spettava dei soldi della sottoscrizione. Anche i crumiri, che a rigore, non lo se lo sarebbero meritato. È stata una vittoria, si ripetevano. I padroni hanno ceduto. Poco, ma hanno ceduto. Avevano ritirato i licenziamenti dei ventuno e aderito a ritoccare le tariffe. Non accedevano alle loro richieste. Non gli venivano nemmeno incontro a metà strada. Ma una concessione l'avevano fatta. Sei centesimi allora per i muratori, quattro per i manovali. Ai primi e ai mezzi muratori l'aumento veniva arrotondato rispettivamente nella misura di mezza lira e di otto soldi la settimana. Roma gli ha messo paura. Li hanno minacciati di penale negli appalti per conto dello Stato. Non vogliono creare movimenti in vista delle elezioni. Era una vittoria. E per parziale che fosse, conseguita su tutta la linea di combattimento. Dall'ospedale le notizie del tedesco erano buone. Ossia lo si sapeva in sala operatoria. A mente invece l'avevano di già tolto dal reparto osservazione e passato all'isolamento. Ora cosa avesse lo si sapeva. Ricoverato per fargli smaltire la crisi d'epilessia e medicare l'occhio. Pesto. Gli avevano trovato addosso ma via. Lo scorbuto. Una forma leggera per fortuna, anche la sua. Era il male della fame. Qualcuno aveva sorriso e il decano che negli ultimi tempi aveva mangiato ciò che aveva mangiato, Aminta, Sporting fuori il petto, ci bussò col pugno e disse Ah, è davvero un'altra generazione. Tacque. Aveva pensato ai bambini di Aminta, alla moglie di lui, alla propria vecchia. E ho male che attacca? Chiese. Finora, disse Leopoldo, avevo sempre saputo che lo pigliavano soltanto le galline. Era ormai l'una e si aspettava che Nardini desse il segnale. Da un momento all'altro sarebbe apparso il piccolo Renzoni, che non aveva potuto fare a meno di recarsi all'appuntamento con la sua bambinaia e col suo desinare.